Il legno ha molte vite e la nostra collezione Indo nasce con questa filosofia. Composto con fonti riciclate e sostenibili, Indo è un rivestimento per interni eco-compatibile, nato per soddisfare chi ama la natura. Un'attenta selezione di gamma dà risalto al marchio Tech FSC, un motivo di vanto che significa la rinascita del Tech, recuperato da un'epoca passata e rinato come rivestimento di altissima qualità. Disponibili in affascinanti finiture come Nature, Gunsmoked e Charred in Driftwood, Tech, Noce, Hevea, Banchirai e radice di Tech, Indo è allo stesso tempo una galleria d'arte naturale e una dichiarazione d'amore all'ambiente. Per creare la collezione Indo nulla viene sprecato, per esempio la radice dell'albero di Tech è ripensata come Diamondwood e l'albero di Cauciu rinasce per diventare Driftwood. Ogni asse è unica e fatta a mano, creata attraverso un'attenta selezione di elementi che si uniscono alla perfezione così da creare un rivestimento assolutamente esclusivo e affascinante. Indo, rivestimenti in legno di alta qualità.